l'italia come tutti gli altri paesi che erano usciti dal conflitto fu alle prese con numerosi problemi aveva perso gran parte della popolazione giovane quella che è più attiva dal punto di vista lavorativo aveva dovuto fare dei debiti con gli stati uniti perché per ricostruire il paese servivano dei soldi c'erano migliaia di reduci di cui occuparsi persone che avevano sacrificato molto per la loro patria e ora erano invalidi e non potevano lavorare molti operai poi avevano seguito con interesse quello che era capitato in russia nel 1917 la rivoluzione la presa del potere da parte dei proletari e pensavano che si sarebbe potuto fare una cosa simile anche in italia per risolvere una volta per tutte i problemi dei lavoratori e infine c'era l'inflazione cioè un grande aumento dei prezzi ma non dei salari anzi una diminuzione dei salari perciò quello che serviva per acquistare un bene prima della guerra adesso non bastava più tutti questi problemi portano molti lavoratori a iscriversi sempre di più alle associazioni sindacali questo grafico ti fa vedere questi sono gli anni 1913 1916 1919 1922 com'è l'andamento delle iscrizioni alle associazioni che difendevano o comunque insomma che si occupavano dei problemi degli operai e dei contadini quindi negli anni subito dopo la guerra abbiamo veramente un picco un innalzamento di queste iscrizioni parallelamente a queste iscrizioni aumentate da questa tabella puoi vedere come negli anni che vanno dal 18 al 23 il numero degli scioperi in un anno aumenti sensibilmente fino poi a diminuire e quasi a scomparire vedremo poi per quale motivo questi dati però devono sollecitare questo pensiero c'è una una grande massa di popolazione che è formata da contadini e soprattutto da operai che hanno sempre più coscienza di quelle che sono le loro problematiche i loro diritti e vogliono far sentire la loro voce quelli che abbiamo visto prima però sono i nuovi problemi che sono sorti dovuti alla guerra ma si aggiungono a quei problemi che già c'erano e i problemi principali che già esistevano in italia erano la scarsissima industrializzazione e un'agricoltura molto arretrata soprattutto nelle regioni meridionali questa situazione serve a spiegare i fatti che accadranno negli anni subito dopo la prima guerra mondiale allora intanto tieni presente che un sentimento che accomunava gran parte della popolazione era la cosiddetta idea della vittoria mutilata cioè in pratica la delusione per non aver ottenuto durante la conferenza di pace quello che il patto di londra aveva promesso in questa cartina puoi vedere subito dopo la guerra in verde quello che l'italia era riuscita ad ottenere nel 1919 viene annesso il trentino e l'alto adige questi territori saranno assegnati all'italia nel 1920 e poi qui abbiamo lo stato libero della città di fiume che verrà annesso all'italia nel 1924 a questo devi poi aggiungere se ti ricordi tutte quelle colonie che in teoria noi avremmo dovuto ricevere per esserci alleati con inghilterra e francia e che invece non abbiamo ricevuto prova a capire da solo facendo magari una ricerca nelle immagini in internet che cosa rappresenta questa scultura e perché è stata messa in questa diapositiva insomma torniamo noi praticamente tutti gli italiani per un motivo o per un altro spesso per molti motivi erano scontenti e soprattutto non avevano fiducia in chi li governava scontenti della loro situazione economica e pensando di poter innescare una rivoluzione come quella russa i primi a manifestare furono proprio gli operai che negli anni del 1900 1919 e 1920 diedero luogo a moltissimi scioperi nelle città più industrializzate d'italia cioè quelle del famoso triangolo industriale cioè torino milano e genova e poi via via anche nelle altre città al punto che questo periodo cioè i due anni 19 20 passò alla storia con il nome di biennio rosso di fronte a questa ondata di scioperi i proprietari delle fabbriche risposero con la serrata delle fabbriche cioè la chiusura degli stabilimenti per rendere praticamente inutili gli scioperi se io chiudo la fabbrica e l'operaio che sciopero fa la fabbrica è chiusa gli operai allora capita questa tattica dei padroni occuparono le fabbriche cioè risposero alla serrata con l'occupazione della fabbrica di fatto impedendo che il padrone potesse chiuderla quindi la produzione andava avanti e la fabbrica occupata veniva gestita da gruppi di operai che si organizzavano un po come avevano fatto i soviet in russia furono due anni molto difficili e la borghesia cominciò a spaventarsi il il quesito la domanda che si ponevano era e se fosse scoppiata una rivoluzione veramente anche gli imprenditori erano impauriti forse erano i più impauriti di tutti perché se fosse veramente scoppiata una rivoluzione loro avrebbero perso tutto se ti ricordi la presa del potere da parte del partito di lenin aveva per prima cosa cancellato proprio la proprietà privata e quindi la possibilità di essere padroni di fabbriche o di attività economiche all'epoca al governo c'era ancora il vecchio giolitti che in questa situazione difficile riuscì a mantenere il controllo evitando che la situazione degenerasse convincendo gli industriali a fare delle concessioni agli operai e convincendo gli operai a rientrare nei posti di lavoro anche se in realtà però i problemi non furono risolti questo è molto importante da capire quindi ricapitolando la gente in generale era scontenta era povera era preoccupata per il futuro gli operai si mobilitavano nella speranza di poter attuare una rivoluzione gli imprenditori avevano paura che gli operai e i movimenti politici che li sostenevano riuscissero nel loro intento in questa situazione si inserisce un personaggio che diventò il protagonista degli anni successivi benito mussolini mussolini da sempre era stato attivo in politica iscritto al partito socialista proprio il partito che voleva difendere i diritti dei lavoratori e si batteva sempre in primo line in prima linea ricoprì degli incarichi anche importanti fino a diventare direttore del quotidiano del partito socialista l'avanti nel 1914 però mussolini si dichiara favorevole all'entrata in guerra dell'italia con l'intesa e fu espulso dal partito se ti ricordi il partito socialista e tutti i movimenti dei lavoratori erano contrari all'entrata in guerra perché sostenevano che la guerra avrebbe ancora una volta arricchito i padroni e sarebbe stata per così dire pagata dagli operai quindi dicevamo fu espulso dal partito e mussolini cosa farà fonderà un proprio giornale che si chiamerà il popolo d'italia e che tra l'altro avrà moltissimo seguito tra la popolazione mussolini non si limita a fondare un giornale però a milano fonda i fasci dei lavoratori cioè un'organizzazione paramilitare cosa significa paramilitare formata da uomini che pur non essendo dei soldati dei militari veri e propri cioè non facendo parte dell'esercito si comportavano però come se lo fossero quindi avevano una organizzazione una divisa dei simboli e soprattutto erano armati chi erano questi uomini ma erano persone che intanto avevano combattuto che spesso non erano non facevano parte dei militari dei fanti quelli meno istruiti quelli che finivano sempre in prima linea a combattere nelle trincee ma spesso proprio perché nella maggior parte dei casi dotati di un certificato scolastico avevano ricoperto anche mansioni o di comando o comunque erano diventati specializzati in qualche settore erano persone che erano scontente per come la guerra era finita e per come erano andate le cose e volevano fare qualcosa che cosa ma il loro progetto era prima di tutto quello di abbattere il sistema parlamentare il sistema democratico perché non ritenevano il parlamento e il governo italiano degni di fiducia non li ritenevano capaci di governare il paese e di tirarlo fuori dalla dalla crisi volevano rimettere a posto la società italiana e per farlo erano intenzionati a utilizzare qualsiasi mezzo anche la forza quindi si organizzarono in squadre d'azione che poi presero il nome di squadracce e tra poco capirai da solo il perché cosa facevano queste squadracce facevano delle spedizioni punitive contro gli oppositori cioè contro soprattutto quella parte politica socialisti comunisti ma in generale tutte quelle associazioni istituzioni che in qualche modo si occupavano dei diritti dei lavoratori quindi anche non lo so giornali sindacati ad esempio arrivavano all'improvviso armati e facevano irruzione nella sede di un giornale di un sindacato di un'associazione distruggevano ogni cosa e picchiavano chi cercava di fermarli osserva queste due immagini la prima fotografia fa vedere proprio la sede del giornale dell'avanti quello che mussolini aveva diretto dopo che c'è stato un attentato qui di fianco invece vedi una prima pagina di un giornale prova a fare una ricerca per capire un po di che cosa si sta parlando ti suggerisco di guardare soprattutto il titolo di questo giornale per capire che cos'era alcune espressioni e di cercare anche qua di capire a che cosa alludono e anche la data ad esempio in cui questo avvenimento a cui si fa riferimento è avvenuto anche la vignetta satirica che molto sarà usata in questo periodo ti può essere ti può essere utile torniamo al movimento di mussolini per mantenere un movimento mussolini però aveva bisogno di soldi ovviamente trovò dei finanziamenti mettendosi per così dire al servizio degli agrari cioè dei grandi proprietari terrieri anche i proprietari terrieri avevano dei problemi perché come gli operai occupavano le fabbriche allo stesso modo i contadini occupavano le terre incolte cioè quelle grandi quelle vaste aree di campi che i proprietari terrieri non facevano coltivare e che i contadini chiedevano per se stessi cioè ragionamento era se tanto tu non li fai fruttare noi che sgobbiamo e viviamo ai limiti della sopravvivenza potremmo occuparci di queste terre e farle fruttare quindi industriali e agrari avevano il problema di contadini e operai che impedivano il loro normale svolgimento dell'attività economica il progetto di questi agrari e di questi industriali ma anche di altri esponenti potenti della società italiana era semplice una volta che Mussolini e le sue squadracce avessero messo la parola fine ai disordini degli operai e dei contadini lo avrebbero messo da parte perché non sarebbe servito più quindi pensavano di poter utilizzare il movimento dei fasci come una sorta di braccio armato che avrebbe dovuto svolgere un servizio far smettere gli scioperi far smettere le occupazioni dopodiché a Mussolini e i suoi uomini loro avrebbero dato il ben servito e tutto sarebbe tornato esattamente come prima le cose però non andarono così tra il 1920 e il 1921 gli scioperi si dimezzarono calcola che tra operai e contadini persero la vita nei disordini circa 1500 persone ma un'altra conseguenza gravissima fu questa il movimento di Mussolini era ovviamente un'organizzazione illegale oltre che violenta ma la gente cominciò a vederla come l'unica organizzazione che riusciva a riportare l'ordine quella parte di borghesia formata dagli impiegati il famoso ceto medio cioè chi non era né operaio né contadino quindi chi non apparteneva alla parte più povera della società e anche meno istruita ma non apparteneva neanche alla parte più ricca della società che aveva molta paura perché faceva fatica vivere anche lei e questi disordini non facevano altro che complicare la loro vita vedevano nella organizzazione di Mussolini qualcosa che riportava le cose al loro posto qualcosa che rimetteva tutto in ordine quindi invece di indignarsi invece di preoccuparsi per questa violenza la reazione era di soddisfazione perché era come se ci fosse qualcuno che finalmente si occupava di loro in tutto questo tieni presente che gli uomini di Mussolini che compivano questi attacchi queste sortite non venivano mai né indagati né arrestati perché la polizia si girava dall'altra parte la polizia non avrebbe potuto fare un intervento del genere perché la polizia è una forza regolare anche la polizia deve rispettare dei paletti deve rispettare dei diritti dei cittadini quindi non avrebbe potuto fare quello che facevano questi uomini lasciava allora che lo facessero loro questo è molto importante per capire come mai negli anni immediatamente successivi un movimento nato dal nulla diventò in pratica il padrone dell'italia grazie a tutti